eccoci ciao a tutti sono di nuovo con la nostra ospite graditissima paola fendoni ciao paola ciao massimo ciao a tutti come stai bene bene che è una ipnotista e scrittrice e beh ha scritto questo libro che ci fa vedere andate e ritorno andate e ritorno sempre lui sempre quello sempre quello dove comunque parla di narcisisti è un romanzo diciamo tratto da una storia vera che poi una storia autobiografica la tua storia e lei si occupa di ipnosi e altre cose insomma e oggi parliamo vediamo un attimino di autostima come migliorare l'autostima perché da quello che è evidente diciamo le persone che hanno una bassa autostima sono le persone che sono poi prede più diciamo le prede più facile prede più papabili diciamo a quello che è un narciso manipolatore anche perché l'autostima è un pilastro fondamentale nella nostra vita attraverso il quale siamo in grado di superare e di far fronte alle difficoltà credendo però in noi stessi se non abbiamo e non siamo in grado di potenziare quello che è la nostra autostima cosa siamo siamo comunque delle banderuole al vento siamo comunque in mano a delle persone che in qualche modo ci pensiamo che ci diano stima ma alla fine ce la tolgono ci usano solamente ecco quindi se ti va di inquadrare un po la tematica magari di parlare un po dell'autostima in generale poi come cercare di svilupparla e per evitare proprio di diciamo cadere nella tela del ragno del narcisista manipolatore sarà la fine della mosca che viene divorata per manipolatore beh come ho detto prima bisogna credere in quello che siamo noi nelle nostre potenzialità per realizzare quelli che sono i nostri progetti di vita e ti assicuro che con l'imnosi si può migliorare l'autostima anche se non sembra vero ma è così l'autostima o la scarsa autostima che è alla base di molti disturbi emotivi allora quando si è insicuri di se stessi cosa succede il valore della persona della propria stima non è sufficientemente sviluppato e si possono innescare atteggiamenti compensatori che portano ad essere praticamente più fragili e ad essere quelli che in qualche modo ci leghiamo a qualcun altro e lo usiamo come un ausilio usiamo tra virgolette perché poi alla fine sono loro che usano noi capisci però ci sono due tipi di persone perché se tu hai notato e sicuramente sì ci sono quelli che hanno bassa autostima e hanno comunque un atteggiamento supponente e arrogante perché pensano che solamente in quel modo riescono a farsi rispettare oppure ci sono quelli che invece evitano qualsiasi decisione evitano qualsiasi presa di posizione sono incapaci di portare avanti il loro il loro pensiero di esporre il loro pensiero il loro progetto di vita e di conseguenza non è facile in questi casi avendo a che fare con due persone una supponente e una che praticamente abbassa sempre la testa e tutto qualsiasi cosa tu gli dici lei faccia perciò dobbiamo andare a lavorare comunque non pensi sì sì no certamente sì sì ma e ti volevo chiedere secondo te i narcisisti che autostimano allora i narcisisti hanno autostima zero ma sono quelle persone che ti fanno credere di essere molto forti molto capaci capaci di tutto che tu in qualche modo ti appoggi come se loro fossero la tua stampella il loro ausilio ma non è assolutamente così e traggono da quella che è la tua non autostima quella che è la tua incapacità di prendere in mani o le redini della tua vita traggono vantaggio e si fanno forti loro e sì anch'io penso questo che il narcisista di fatto non abbia un altro canismo di difesa per cui esatto esatto magari sviluppa dell'arroganza ma non è sicuramente autostima e invece anche persone magari con bassa autostima tendono comunque essere vittime di cui quindi alla fine si tratta di una comunicazione tra persone che di fatto hanno entrambe bassa autostima che viene sviluppata in modo diverso ma infatti io parto parto sempre dal fatto che chi anche scarsa autostima è lemosina vai lemosina re amore attenzioni non è in grado di far emergere quello che è dentro di lui perché perché non si considera perché sono stupido perché non sono capace di questo perché non sono capace di quello e di conseguenza sempre bisogno di qualcun altro che in qualche modo parli per lui perché paura anche la timidezza è comunque data da una scarsa autostima di se stesse e come secondo te diciamo come tu insegni diciamo a sviluppare autostima lavorando con l'imnosi andiamo sempre a lavorare con l'imnosi a far riemergere il primo ricordo che ha portato la persona ad avere una bassa autostima su di sé e comunque da quella che è la mia esperienza lavorativa ho notato che arriva e tutto parte sempre da un'infanzia. C'è quello che ci è mancato nell'infanzia andiamo poi a colmarlo con l'età adulta cercando e affierando persone che alla fine al posto di fare il nostro bene fanno comunque il nostro male se invece si ha una forte autostima si è consapevoli del nostro valore non abbiamo bisogno di cercarlo in un altro perché io parto dal fatto che l'altra persona deve essere un qualcosa che cammini a parallelamente a te ti deve essere un completare non un tappare un buco non essere un ausilio quello che purtroppo succede comunque in molti rapporti finisce una relazione o una relazione sta andando male che cosa succede la maggior parte delle volte si cerca un qualcos'altro perché perché non si è in grado di stare da soli perché la solitudine comunque anche quella è una mancanza di autostima chi non è capace di stare da solo si deve cercare un ausilio perché da solo non sta bene perché non si ama abbastanza perché se tu ti ami abbastanza sei in grado anche di bastare a te stesso di stare da solo di non nemmosinare nulla questo secondo te se stai parlando adesso diciamo di stare da soli è più una paura femminile o maschile secondo te? anche questo l'ho riscontrato a metà e metà io ho conosciuto persone che praticamente sia uomini che hanno che soli non riescono a stare manca l'aria come anche a donne il 50% direi quindi non hai notato una prevalenza diciamo di un no io da quello che è la mia esperienza ho notato un 50% e un 50% ma quello che ho notato è che quando dico ma hai accolto il tuo io interiore il tuo bambino interiore l'hai abbracciato gli vuoi bene chi è? in ipotesi faccio un esempio Simone e nessuno sa che dirmi chi è Simone nessuno sa cogliere quello che è il suo io interiore non lo sa riconoscere non si vuole bene le persone che in qualche modo si danno molto per gli altri è per compensare il vuoto che hanno dentro di loro e la mancanza di autostima li porta a essere sempre molto propensi verso gli altri perché pensano così di ricevere gli elogi ma poi alla fine si è comunque sempre usati è giusto aiutare gli altri ma prima di aiutare gli altri aiutiamo noi stessi secondo te quindi c'è un collegamento tra la paura della solitudine e la mancanza di autostima? sì, sì, specialmente quando io mi sono resa conto anche che quando si arriva a una certa età più 50 anni ma io ho 50 anni ma se chiudo questa storia cosa faccio? la paura della solitudine è perché non si amano perché non si stimano perché pensano che da soli non valgono nulla non sono nulla non è assolutamente così e partiamo sempre dal fatto che se non ci amiamo non siamo nemmeno in grado comunque di amare in modo giusto e corretto l'altra persona certo, certo perché in qualche modo dipendiamo e tu sai benissimo che quando si dipende da un'altra persona se anche quel rapporto finisce cosa succede? che ti schianti nuovamente al fuoro oppure rimani attaccato a quel rapporto pur di non rimanere solo vero, verissimo c'è anche da dire questo che sicuramente diciamo c'è un imprinting quindi ci sono delle diciamo come dire delle impronte che derivano da lontano però talvolta c'è anche proprio un un non acquisire la indipendenza nel presente ad esempio persone che magari non sono autonome economicamente non sono autonome e quindi ovviamente se non hai un'autonomia diciamo ti vai ad aggrappare a delle persone siccome poi nessuno ti dà niente per niente chi ti dà qualcosa poi alla fine pretende altro pretende ad avere il controllo esatto esatto però anche lì dipende sempre solo ed esclusivamente da noi perché il modo per essere autonomi se vogliamo lo possiamo trovare lo possiamo trovare a livello autonomico nel senso che piuttosto vado a fare le pulizie se economicamente non ce la faccio a mantenermi ma non mi faccio a mantenere da un uomo esatto esatto o da una donna chiunque sia sì 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 comunque se vedi è comunque tutto legato un filo che è comunque legato verso tutti questi aspetti solitudine la paura della solitudine la mancanza di autostima la mancanza di credere in se stessi il fatto di tenersi in qualcosa anche se non ci sta bene perché? perché quello è qualcosa che hai e sì è quello classico famoso detto sai quando lasci la strada vecchia ma non sai cosa trovi in quella nuova non andremo più avanti se rimarremo sempre sulla strada vecchia la strada vecchia per quella nuova sa quello che lascia non sa quello che trova ma non sa quello che trova ma se non siamo in grado di buttarci alla fine saremmo solamente solo persone infelici perché ci sono veramente tante coppie infelici che rimangono in quella in quella classica situazione di come la possiamo di comfort la zona comfort o quelle classiche famiglie del mulino bianco come io la chiamo che poi alla fine queste famiglie del mulino bianco sono comunque deleterie perché non ci trovi più nulla ma solamente perché al di fuori la gente deve pensare che chissà ne frega della gente capisci? se tu hai la tua autostima sei centrato su te stesso ti vuoi bene ti ami quello che dice la gente adesso per lo scivolare io accetto una critica se è costruttiva non distruttiva sì questa è una paura che hanno molte persone il timore del giudizio degli altri il timore di parlare in pubblico cosa significa? io ho una persona che mi dice io quando so che devo parlare in pubblico comincio ad arrossire comincio a balbettare mi manca l'aria mi sento panico scappo e perché? anche qui la timidezza la paura la paura di essere se stessi la paura che qualcuno ti giudichi la paura che se dici una parola sbagliata oh mio Dio cosa succede? e poi sono comunque delle convinzioni che ti porti sempre comunque fin da bambino e anche comunque quella che è una scuola partendo da un asilo da una scuola elementare partendo comunque da un'infanzia ti porti comunque delle ancore e degli zaini addosso delle zavorre pesantissime che bisognerebbe comunque lasciare andare eh sì questo sì questo sì e tu hai qualche esperienza qualcosa da raccontare ad esempio tu nel diciamo su te stessa visto che hai scritto questo libro dove hai fatto questo tanto ricordo intanto Paola Fendoni che ha anche un canale YouTube YouTube il mio canale YouTube Paola Fendoni oltre le porte del tempo il mio sito web sì www.paolafendoni.com allora io come dico sempre ho messo la faccia in questo libro ho messo la mia faccia ho messo la mia vita di conseguenza non mi nascondo su quello che ho scritto in quello che ho scritto e quel momento che mi ha portata a vivere questa questa storia con questo narciso manipolatore maligno me la sono è perché in quel momento io ero così talmente fragile e insicura di me stessa che me lo sono attirato come dico sempre io e in qualche modo ho perso la mia identità perché anche se pensi che ti proteggono alla fine ti distrungono non ti proteggono assolutamente perciò quello che dico sempre e me lo ripeto continuamente e lo ripeto alle persone che mi chiedono aiuto e un consiglio amiamoci amiamoci il primo la prima persona alla quale dobbiamo volerci bene quando ci alziamo io sfido chiunque che quando si sveglia al mattino si guarda all'aspetto aiuto che spavento perché è così ok allora io dico guardiamoci all'aspetto e diciamo va bene dai comunque mi piaccio ugualmente con tutti i miei pregi e i miei difetti poi la fortuna delle donne è che si possono anche truccare e di conseguenza riusciamo anche a mascherare un po' le rughe un po' quello a renderci più giovani più belle ma amare se stessi significa anche prendersi cura di noi stessi in tutti i modi ma prendersi cura di noi stessi vuol dire amarci è tutto un meccanismo è sempre un cerchio alla fine ritorni sempre a te secondo te diciamo sicuramente ci sono delle correlazioni il prendersi cura fisicamente aiuta nell'autostima cioè prendersi cura fisicamente aiuta nel vedersi più belle per quello che ti dicevo la scorsa settimana se io ho avuto una persona che mi ha detto io così non mi piaccio questo naso non mi ci trovo mi vergogno mi sento che quando parlo le persone mi guardano lì devo fare un qualcosa per migliorare se questa cosa la fai per migliorare perché in qualche modo ti dà più fiducia in te stessa io dico ben venga cioè ben venga perché se questo ti dà l'opportunità di amarti un po' di più io sono comunque favorevole a questo perché ci sono persone che la tale insicurezza li rende il tale problema estetico li rende talmente insicuri che veramente non si amano si nascondono dietro questo problema non riescono a superarlo perciò va bene diciamo che un po' agire sul sintomo non sulle cause però sicuramente si dà un beneficio perché no diciamo cioè io ho visto persone che si sono viste esteticamente migliori e si sono amate di più e la loro autostima è salita cioè l'autostima non ti deve salire perché tu esci per strada c'è quel insolito che ti fischia cioè capisci può farti piacere fino a un certo punto perché poi c'è modo e modo affinché un uomo ti possa fare i complimenti per aumentare la tua autostima ma l'autostima deve essere deve nascere dentro di noi guardarci allo specchio e dirci ok non sono chissà chi ma mi piaccio ugualmente mi piaccio per quella che sono sia dentro che fuori perché tu puoi essere bella dentro puoi essere la persona fantastica dentro ma se ti guardo allo specchio e non ti piaci non piacerai mai a nessuno perché automaticamente già tu ti metti nella tua zona d'ombra e anche secondo me accettare il tempo che passa cioè nel senso accettare il tempo che passa il tempo passa fortunatamente passa e siamo vivi per vederlo passare ma ci sono sì non è facile accettare le rughe cioè io ho avuto ho seguito una persona che purtroppo bellissima ragazza un incidente la porta su una sedia a rotelle e c'era il suo compagno assieme e logicamente si ascoltano le persone ascolto lei il suo bisogno era quello di essere supportata da parte del suo partner a livello estetico che la facesse sentire ancora bella ascolto lui mentre lei è lì che lo ascolta e mi dice e perché lei era così e mi fa vedere le foto di lei quando quando camminava ancora e a un certo punto gli dico ma a cosa sei legato a quella che era o quella che è diventata perché su una sedia a rotelle che cosa ti sta portando lontano da lei lui era legato all'immagine della ragazza alta bella mora prestante e quella che era sulla sedia a rotelle non gli andava più ok di conseguenza gli stava facendo solamente del male perché lei stava male perché si sentiva rifiutata da lui solamente quando lui si è allontanato definitivamente perché perché non poteva cioè se voleva costruire qualcosa con lei la doveva lo doveva costruire da dalla condizione com'era e andare avanti non poteva perché perché il suo amore era finito lì si era fermato a com'era prima perciò era deleterio per questa donna avere accanto questo uomo eh sì quello sì la sua vita la sua vita se l'è presa in mano dopo esatto non è facile però se se io parto sempre dal fatto che il vero amore non si misura quando si sta bene certo certo l'amore vero si misura quando bisogna supportare il tuo partner o la tua partner nel momento del bisogno se quello sparì quell'amore compare vuol dire che non era amore sì credo che anche il tradimento sia quello proprio di abbandonare una persona nel momento del bisogno quando ha il tradimento se ami una persona non esiste sì sì non esiste il tradimento assolutamente se tu ami una persona se quella persona ti basta perché partiamo sempre dal fatto che tu ti devi bastare a te stessa se tu ti basti a te stessa la persona che entra a far parte della tua vita ti compensa ma non che hai bisogno di lui per stare bene certo quando invece questa persona viene e in qualche modo è quello che è il tuo ausilio non potrà mai andare avanti un rapporto perché alla fine uscirà sempre il problema sì in questi casi bisogna avere il coraggio di chiudere perché portare avanti situazioni ma chi non ha autostima non è nemmeno in grado di chiudere accetta tutto pur di tenersi la persona accanto questo è vero questo è il vero dramma credo è il vero dramma dei drammi dove la persona sprofonda sempre di più in un malessere interiore perché perché subentra il non amarsi il non stimarsi il vergognarsi di continuare lemosinare amore eh sì quindi in una situazione che poi diventa veramente a livello psichiatrico diventa veramente complicato quindi e ci vuoi raccontare un attimino il modo in cui rafforzi l'autostima con l'ipnosi che induzione l'induzione è sempre comunque quella di una di un verbale ok dove porto la persona a rilassarsi sempre a livello psicofisico con delle frasi con un'induzione che io uso e specifico sempre il metodo Brian Weiss e la riporto sempre comunque a quella che è un'infanzia ma può anche come ripeto eh l'induzione solitamente è sempre uguale magari cambiano alcune frasi eh magari a posto di parlare eh di una di una luce parlo eh di un prato di una panchina dipende comunque dalla problematica che il cliente ha ma alla fine andiamo sempre poi a parlare con la nostra parte destra il nostro omisfero destro e poi dipende sempre dalla mente quello che va a ricercare a seconda del suo bisogno se il problema è da risolvere in una vita precedente lo va a ripascare in una vita precedente e ti ritrovi a vivere magari quello che ti è successo in una vita precedente però andiamo sempre a portare la persona in una dimensione tale che praticamente andiamo a colloquiare con la sua parte destra quindi comunque è una tecnica diciamo verbale rilassante quello di sì allora il grande Erminio di Pisa usava la fascinazione la fascinazione la usava per il dolore per quello che era lavorava con il non verbale la fascinazione è il linguaggio non verbale ho visto qualcosa utilizzava tecniche non verbali per tensiogene sì esatto perché ci sono persone che preferiscono il verbale e ci sono persone che non sono in grado di relazionarsi preferiscono il non verbale allora lavoriamo con la fascinazione oppure c'è la tecnica della timeline quando devi elaborare qualcosa hai trovato il punto hai trovato il problema lo andiamo a elaborare con la timeline con la luce sì sì la timeline della pianella intendi esatto anche con la luce cioè tu che te ne intendi lo sai comunque la pianella la usi per andare a modificare quelle che sono le dinamiche che il tuo cervello ha memorizzato in modo sbagliato con una PNL andiamo comunque a cambiare determinati comandi e diamo al nostro cervello degli input giusti sì perché fondamentalmente ci sono poi due modi per diciamo entrare in uno stato possiamo definirlo similipnotico cioè tecniche onerosiliche un po' simili ai sogni che sono quelle verbali grassanti ma anche le tecniche tensi oggi ne possono ottenere risultati per certi versi magari più rapidi però forse non sono magari meno gestibili io preferisco andare a scandagliare la mente in modo tranquillo in modo lento in modo non diretto capisci come è quello di portarti in una situazione catartica o catatonica mi piace invece portare la persona a essere consapevole piano piano dei vari passaggi a sciogliere i muscoli completi del tuo corpo e andare in quella dimensione dove comunque sei in uno stato veramente di tranquillità a livello psicofisico esatto in una situazione catartica o catatonica che cosa ti ricordi? sì 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 no certo però alle volte magari ad esempio serve per la crisi sì ci sono persone che ad esempio in alcune particolari ma questo avviene anche in situazioni della vita quotidiana cioè nel panico di un incendio le persone vivono in uno stato tensionale emotivo molto forte basta che una persona aggredi presto buttiamoci dalla finestra quello diventa un comando ipnotico tutti si buttano dalla finestra certo sicuramente ma questo è stato usato nelle relazioni sentimentali affettive anche questo succede cioè se tu che ne so stai per sposarti sei innamoratissima e vieni piantata sull'altare diciamo vivi uno shock quando sei lì un trauma un lutto che poi non riesce se non lo elabori diventa veramente un problema però diventa talmente ipnotica la situazione per cui che ne so se tu è un padre spirituale che ti dice in quel frangente figlia mia leggilo come un segno del signore che ti chiama e tu ti fai suona diciamo l'importante è che ti chiami e ti fai suona non che ti butti da qualche parte se invece il padre spirituale è un'amica che ti dice ma sì gli uomini sono tu uguali nessuno vale la pena tanto vale a fare la mignota esatto tu segui quell'istinto però diciamo che in questi casi l'unica cosa giusta non viene fatta cioè quella di dire con Mario Rossi è andata male avanti il prossimo o col prossimo andrà meglio noi quando vediamo le relazioni sentimentali effettive vedo spesso che le persone diciamo adesso magari essere piantati sull'altare è una situazione un po' è uno shock abbastanza forte è successo una persona che non è riuscita proprio a elaborarlo è andato in una crisi è la classica è come quando ti muore accidentalmente una persona che magari che magari al mattino ci hai litigato anche assieme e magari gli hai detto ma vai a quel paese sparisci non ti voglio più vedere quello è un trama che per elaborarlo devi veramente entrare nel super conscio nel subconscio sì 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 beh certo anche in quel caso lì sì e soprattutto se è stata di un figlio magari o di una figlia l'elaborazione di un lutto per la perdita di un figlio ti assicuro che non si elaborerà mai al cento per cento perché il dolore te lo trascinerai per tutta la vita io avevo conosciuto una signora che parlo di un po' di anni fa che aveva perso la figlia in un incidente una figlia giovane comunque adesso mi è convincente in auto comunque riuscì al mattino boom un incidente morta sì e lei è riuscita a trovare diciamo una sua dimensione aiutando gli altri no col trascendente cioè con faceva praticamente sedute spiritiche ah ok per trovare la connessione con l'anima al di là le sedute medianiche sì sì io per dieci anni ho condotto dei gruppi diciamo di sedute spiritiche tra le sedute medianiche sì e lei riusciva poi che sia vero che non sia vero però di fatto questo contatto che lei anche con la metafonia utilizzava anche la metafonia no questo contatto che ripeto vero non vero non è possibile dimostrarlo però per lei vero soggettivamente vero l'aveva diciamo molto confortata perché era riuscita ad avere appunto la credenza che la figlia vivesse in una dimensione dove stava bene di felicità e quindi ma solitamente solitamente quando c'è una morte accidentale che sono questi classici lutti che sono difficili poi da elaborare la persona solitamente non passa mai oltre nell'immediato e si ferma in un mondo di mezzo solitamente si ferma nel mondo di mezzo fino a che non vede la persona sulla terra che riesce ad accettare la morte ed essere un pochino più tranquilla solitamente rimangono lì e quando sono nel mondo di mezzo li percepisci io sono andata nel mondo di mezzo ci sono finita ci sono finita nel mondo di mezzo nel mondo di mezzo praticamente hai la visibilità di vedere tutto quello che succede sotto di te quello che succede nella vita mentre tu sei lì ascolti vedi vivi determinate situazioni e vivi la diversità e l'intensità delle emozioni quanto sono belle nel mondo di mezzo e quanto sono pesanti sulla vita raccontaci un pochino questa esperienza visto che siamo finiti su questo discorso e già avrei già accennato forse qualcosa in un'altra no no nel senso che quando io mi sono ritrovata nel mondo di mezzo a seguito di una malattia giusto? allora io ho avuto una diagnosi a 33 anni tumore al cervello tre mesi di vita ma visto considerato che io al mattino avevo avuto un flash visto che essendo io progressiva cioè Brian Wals riconosce regressione e progressione può mandarti la progressione è vedere gli eventi ancora prima che succedano io solitamente vedo gli eventi ancora prima che succedano ho dei flash al mattino io mi alzo e mi vedo praticamente su una sedia a rotelle capelli rasati però l'avevo avuta questa visione non proprio così specifica un mese prima ero ai disabili avevo una persona che stavo ascoltando e ero indecisa se sedermi sul letto sulla sedia a rotelle a un certo punto mi siedo sulla sedia a rotelle divento di colpo bianchissima il ragazzo che era lì mi dice cosa ti sta succedendo stai male e io gli dico esattamente solo queste parole fra un mese esatto sarò su una sedia a rotelle e questo mi dice ma sei scema come per dire cosa stai dicendo cioè io il mese era il 29 gennaio quell'anno era bisestile il 29 no era il 29 febbraio il 29 marzo ero su una sedia a rotelle ma essendomi vista quella mattina su una sedia a rotelle con i capelli rasati io sapevo e ne avevo la certezza matematica che non sarei morta e di questa la mia forza la mia voglia di combattere per fare in modo che mi operassero ma nel mondo di mezzo si sta così bene che dove c'è solamente energie di amore di benessere di tranquillità che nessuno vuole più tornarci nel mondo reale perché se guardiamo il mondo reale è meglio che scappiamo tra virgolette ogni tanto perché sono più i dolori che le gioie sotto certi aspetti ma il mondo di mezzo è pace quella sensazione che difficilmente senti quando sei in vita e invece lì la senti perciò hai la possibilità di decidere se tornare indietro o se passare quella linea quella soglia se oltrepassi quella soglia non torni più indietro dipende da te ma io penso anche un'altra cosa avevo comunque una bambina che mi chiamava e avevo sentito la sua voce ma penso anche che la mia anima in quel momento non aveva voglia di andare oltre perché avevo una missione e quella missione l'ho scoperta nel mondo di mezzo quello che quello che era il mio la mia strada il mio cammino quello che era quello che volevo fare da grande quello che volevo fare da grande era quello di aiutare gli altri a trovare il proprio benessere a livello psicofisico quello di essere tra virgolette non sono un augure voglio essere una persona che ti aiuta a trovare il tuo benessere dentro di te a star bene a star bene con te stessa per poi stare bene con gli altri sì quindi questo è questa esperienza diciamo come ti fa percepire la morte insomma non ho paura della morte assolutamente non mi ha mai fatto paura alla morte non mi fa paura alla morte assolutamente mi fa più paura alla vita che la morte se devo essere sincera infatti ci vuole più coraggio a vivere che a morire perciò io dico sempre per morire persone che hanno angoscia di vivere no io sinceramente vado avanti perché comunque lo dico sempre non mi ha fermato la morte non mi ferma sicuramente la vita anche perché ho tante cose ancora da fare quindi devo far sentire la mia voce fino adesso cioè è come se avessi vissuto in un limbo sotto certi aspetti sembrerà assurdo ma quello che mi ha fatto il narciso manipolatore mi ha dato anche la forza di prendere in mano veramente la mia vita a 360 gravi prendere andarmene perché logicamente andarmene e ripartire da zero da zero cosa che non è facile comunque dico non è facile a 55 anni perché a 20 anni ha in mano il mondo a 30 anni anche 40 comincia però a 55 è un pochino più difficile eppure mi sono buttata e mi sono lanciata perché è una sfida è una sfida con me stessa va bene e l'accetto mi sta bene vado avanti sì in effetti ti ho dovuto ricominciare da capo in qualche modo da zero da zero però mi sono data degli obiettivi mi sono prefissata delle date e mi sono prefissata degli obiettivi che voglio raggiungere e l'obiettivo che mi sono prefissata è far conoscere andata e ritorno il mio libro far capire alle persone che davanti anche un fatto brutto che ti succede che ti toglie qualsiasi cosa che tu hai avuto puoi comunque sempre risalire perché la luce c'è sempre se tu la vuoi vedere perciò non c'è niente che ti possa fermare io posso dire la morte ma a me non mi ha fermato nemmeno quella vuol dire che non era raggiunta la mia ora beh sì e quindi è stata un'esperienza tutto sommato che diciamo pensi che sia stata utile anche questa con questo narcisista io penso che questa esperienza col narciso manipolatore la mia anima la doveva vivere per evolvere per crescere perché come ho sempre detto sicuramente questa era la mia anima gemella e facciamo sempre e ribadisco il concetto ben distinzione fra anima gemella e fiamma gemella l'anima gemella è un cammino che poi alla fine risulta deleterio perché le fiamme gemelle si incontrano per risolvere quella questione che ci portiamo da un karma per finire in un dharma per lasciare andare tutto ciò che era passato ma lasciarlo andare con amore lasciarlo passare oltre la nostra anima ha bisogno di evolvere ha bisogno di capire determinati passi e secondo me quella con l'esperienza con il narciso manipolatore è stata quella che mi ha permesso e ha permesso alla mia anima di evolvere di superare quel qualcosa che per me era importante capire per poi andare avanti non è stato e non è dico non è stato e non è un cammino facile ma io dico che se sono stata scelta da quello dei piani alti come io lo chiamo a superare determinate difficoltà un motivo c'è quali sono le difficoltà più grandi che vanno affrontate secondo te quando si esce da una storia l'abuso di potere con un narciso manipolatore l'abuso di potere dalle istituzioni il farsi credere dalle persone perché sono talmente bravi a farsi vedere vittime che ti assicuro che se non sei molto attento e non sai riconoscere un linguaggio non verbale ti fregano io ho avuto persone che mi dicevano ma come si fa a riconoscerlo ho marito e moglie davanti e lui che è il carnefice passa da vittima ma è pazzesco è pazzesco e ti assicuro che è così perché anche la vittima la vittima alla fine pensa di essere carnefice perché sono talmente bravi a manipolare che sono una cosa spettacolare perciò bisogna capire i meccanismi i fili come sono perciò non è facile farsi credere dagli altri quando tu parli perché loro sono vittime loro saranno sempre vittime perché io ti garantisco che questa persona ancora farà la vittima perché le sue dinamiche erano sempre quelle e io mi dicevo oh porca miseria ma possibile che tu hai avuto otto donne e sono state tutte stronze ti hanno tradito ti hanno trattato male ma ci sarà stata qualcuna che non ti avrà tradito perché la storia e la dinamica era sempre quella questo è un segnale che secondo me è interessante quello che dici quando incontri uno che inizia a dire ah il mio ex non c'è questo non c'è quell'altro ah quell'altro non c'è questo non c'è quell'altro è come quello in autostrada che dice sente la radio attenzione attenzione c'è un pazzo che va contro mano e lui dice non so che pazzo qua sono tutti che vanno contro mano cioè ti credi di essere tu quello nel giusto mentre gli altri sono tutti sbagliati esatto questo è un indicatore quelli che parlano male degli ex ma quelli che parlano male di tutti perché per lui per questo uomo tutti avevano difetti e quello era grasso e quello mangiava come male e quello puzzava e questo su e questo giù lui era il perfetto lo aveva perfetto il problema è che la perfezione non esiste per fortuna ognuno ha i propri pregi i propri difetti e nessuno è perfetto solamente una persona e solamente una persona è in grado di giudicare un altro io non sono nessuno per giudicare qualcuno e mi permetto bene di non giudicare ma io mi chiedo perché tante persone invece che dovrebbero tutelare chi giudicano allora chi è chi ha voglia io mi sento donne che mi dicono ma perché devo andare a denunciare quando poi alla fine vengo messa in una situazione che mi si ritorce tutto contro perché è così perché è così perché se non sei in grado di parlare perché se ti emozioni perché se in qualche modo non sei non sei riesci a essere te stessa farsi dalla parte del torto perché se magari sei una bella donna che ha un determinato modo di vestire sei una tra virgolette una zoccola ma chi l'ha detto questo e allora perché io mi vesto con una minigonna perché io dico sempre che non è l'abito che fa il monaco che io posso anche messero una minigonna una minigonna la puoi indossare con classe e la minigonna non significa essere volgare un tacco può essere volgare e non volgare ma dipende sempre dal soggetto dalle immovenze del soggetto dalla postura del soggetto dalla diambulazione perché essere giudicati se tu non conosci invece io mi sento dire come rivestita ma che cos'è ma non esiste però il discorso è un po' quello che io penso questo è praticamente impossibile evitare che gli altri ci giudichino perché certo ma se noi abbiamo siamo ritorniamo sempre all'autostima se noi abbiamo sufficiente autostima che l'altro ti dica o faccia chi se ne frega ce lo lasciamo scivolare addosso la cosa migliore è fregarsene esatto perché se tu sai il tuo valore se tu ti riconosci in quello che sei sai che sei comunque una persona di un certo spessore tutto ciò che dicono gli altri se tu ci pensi bene solitamente chi ti critica è perché è geloso di quello che tu sei e perché non arriverà mai a essere quello che tu sei allora ti critica le gelosie verso l'altra persona se tu sei ti piaci se tu ami per me ci possono essere cento donne migliori di me ben venga io ho conosciuto donne molto belle sono andata a diglielo non sono gelosa di una donna più bella di me non mi interessa ma sì poi ognuno ha la sua storia diciamo ognuno ha la sua bellezza in sé è bello per quello che è ma se devo essere gelosa di tutte le donne allora poveri noi e questo fenomeno di gelosia invidia secondo te è più un fenomeno maschile o femminile questo l'ho riscontrato purtroppo più femminile più femminile se tu hai notato una cosa che secondo me è molto importante tu trovi gli uomini che si coalizzano con loro con loro con loro stessi trova donne che si coalizzano con loro stessi si danno una contro l'altra te lo sei mai chiesto il perché perché secondo te perché le donne sono gelose l'una dell'altra quindi non c'è solidarietà diciamo io ho riscontrato che c'è poco solidarietà femminile quando invece c'è molta solidarietà maschile se un uomo facciamo l'esempio ok se ipotesi il mio uomo fa il coglione con un'altra parliamoci con un'altra ed è assieme agli amici gli amici lo copriranno tutti ma cosa dici non è vero se invece una donna fa la cogliona le amiche non la copriranno e diranno sì sì è proprio fatto la cogliona quindi l'ho riscontrato l'ho riscontrato nelle persone che mi raccontano l'ho riscontrato comunque anche in certe cose che io ho vissuto dove c'erano comunque determinati gruppi di persone ma secondo te dov'è l'origine cioè qual è l'origine di questa differenza tra maschile e femminile perché secondo me le donne le donne sono più insicure degli uomini sotto certi aspetti quello che è il lato estetico se prendiamo 100 uomini l'80% di donne 100 persone l'80% di donne sono molto più insicure degli uomini ma come a livello proprio fisico personalità a livello fisico le donne si trovano 150.000 difetti poi ci sono anche i casi anche gli uomini e ci sono anche loro però la vivono in un modo diverso ma noi donne la viviamo in modo più pesante io ho visto pochi uomini confrontarsi con altri uomini ma ho visto molte donne confrontarsi con le altre donne a me se mi chiedono chi vorresti essere nessuno mi piace così come sono con i miei pregi i miei difetti sono sempre quella che quello che ti deve dire te lo dico non te lo manda mai a dire e secondo te io ho notato anche questo cioè ci sono molte donne che ad esempio da un punto di vista sentimentale affettivo tendono diciamo così a fregare l'uomo all'amica o alla conoscenza e questo lo trovo assurdo allora anche qua c'è un fenomeno maschile e questo credo sia molto ridotto cioè diciamo anche questo lo trovo assurdo mi è capitato a me di conseguenza però lo trovo molto assurdo è capitato nel anno diciamo io frequentavo una persona e la mia quella che pensavo fosse la mia migliore amica in un momento delicato della mia vita si è riportata a letto ma non posso dare la colpa a lei a lei posso dare una parte di colpa ma la colpa la do a lui perché se non volevi non ci andavi giusto sì diciamo che c'è un concorso di colpa diciamo così esatto perciò non me la posso prendere con lei lei ha tentato ha lanciato l'amo se lui il coglione l'ha preso vuol dire che quel sentimento non esisteva no magari mi ha fatto anche un piacere anche un sentimento di amicizia però perché è come dire certo ma io infatti infatti in quel caso li ho eliminati entrambi cioè non aveva senso né lei né lui cioè ti puoi giustificare ti puoi scusare ma non ha senso vuol dire che queste due persone non mi meritavano e loro non do la colpa non mi faccio oh Dio cosa avrò fatto di male ma perché no riguardo non siete niente non mi meritavate punto basta però lì è citata autostima diciamo in quel frangente ma quella se tu non hai autostima una cosa del genere ti appossa se sei in un momento della tua vita delicato se la tua amica ti porta a letto il marito o se succede anche l'inverso per l'amor di Dio però sono più le donne che in qualche modo cercano di sottrarre il fidanzato il marito per gelosia perché succede e se lo vanno magari a riprendere dopo magari hanno avuto una storia prima poi se lo vanno a riprendere dopo quello non è amore quello è rivalza perché le donne sono anche molto stronze oppure magari neanche ancora il fidanzato ma se sanno che a te piace uno per dire automaticamente cercano di conquistare di portartelo via queste cose le ho sentite magari due amiche io dico sempre alle ragazze alle ragazze alle donne il miglior amico di noi stessi siamo noi stessi ci prendiamo uno specchio e ci confidiamo perché qualsiasi cosa che confidi in modo particolare a un'amica potrebbe essere un'arma a doppio taglio perché ho visto amicizie distruggersi proprio per una confidenza perché è subentrato un qualcosa e poi ci sono i ricatti e poi c'è la paura che lo vada a dire al marito o al fidanzato no assolutamente certe cose è meglio far finta di niente e non dirle perché non potrai mai fidarti di nessuno se non di te stesso sì quindi diciamo per concludere un po' questo discorso dacci qualche chicca sull'autostima insomma accettarsi per quello che si è è la cosa più importante cercare di non somigliare agli altri perché con più cerchiamo di somigliare agli altri e con più la nostra autostima scende amarci per quello che siamo volerci bene per quello che siamo se possiamo migliorarci facciamolo se in qualche modo non possiamo perché purtroppo anche migliorarci c'è un costo a livello estetico ma quel po' che possiamo fare è volerci bene per quello che veramente siamo perché guardandoci allo specchio i difetti anche se non ci sono li troviamo tutti ma se ci fossilizziamo solo sui difetti non saremo mai bene mai mai e se non stai bene con te stessa non potrai mai stare bene con gli altri e non puoi aspettarti che un altro ti debba fare i complimenti per sentirti che stai bene perché magari l'altro i complimenti non te li fa perché gli fa comodo così perché ho conosciuto una coppia che il marito non faceva i complimenti alla moglie perché perché secondo te dimmelo tu che sei uomo perché non c'è i complimenti no perché era per scontata non so oppure perché era per svalutarla per svalutarla per che motivo ma motivo non so per quello motivo per svalutarla per fare in modo di farla sentire uno zero e tenerla sotto alle sue dipendenze ecco e questo è il classico narciso manipolatore per il controllo io sento tante donne che mi dicono sì però mi dice che sono stupida che non capisco niente dove vuoi andare alla tua età cosa vuoi fare perché tante donne non si separano perché ti assicuro che a qualsiasi età se vuoi separarti piuttosto vado a mangiare panna e acqua faccio i lavori più umili ma me ne vado se credi in quello che tu sei sì 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 certo certo poi lasciamo perdere le persone che stanno assieme perché il marito economicamente ha una posizione e loro godono della posizione se a loro sta bene nessuno dice niente e va bene così non giudico nessuno però dipende sempre comunque dal compromesso che fai con te stessa io difficilmente accetto compromessi con me stessa perché non riesco se ti devo mandare a quel paese ti mando davanti al mondo intero beh anche perché appunto diciamo che l'unico formaggio gratis è quello della trappola per topi se qualcuno ti dà qualcosa detto questa frase abbiamo detto tutto se qualcuno ti dà qualcosa non è che lo farà no c'è anche questa differenza che le persone ottimiste secondo me o le persone che hanno forte autostima cercano di trovare le soluzioni quando c'è un problema certo si focalizzano sulla soluzione mentre che disistima si focalizza sul problema diciamo trova i problemi nelle soluzioni eventualmente no ma qualsiasi cosa è un problema oppure è come se ma poi è comunque sempre difficile quello che ho notato di diversità fra uomo e donna è che la donna quando si innamora se ne va allora trova la forza il coraggio di mandare tutto quel paese l'uomo quando si innamora rimane sì però questo diciamo beh dovremmo approfondire questo discorso questo lo dobbiamo approfondire perché è un po' un po' perché se lasciarsi prendere dell'innamoramento e andarsene per carità uno può anche farlo però se cosa succede che se dopo magari due mesi tre mesi va tutto a bagno quella motivazione forte sostenibile che avevi nel momento in cui vai crolla e allora se non hai la forza autostima diventi questo è un altro argomento di una persona che mi ha contattato però se tu ti innamori e te ne vai vuol dire che quel qualcosa che avevi con tuo marito non c'era vuol dire che andandotene forse è il momento che ti devi riprendere mano e se quello era stato un fuoco di paglia vuol dire che devi imparare a camminare con le tue gambe però infatti secondo me la vera la vera autostima la dimostri non se te ne vai quando ti innamori ma se te ne vai quando sei sola se te ne vai spinta da un da un'emozione di cadere questo lo capisco però se tu hai notato capisci io ho notato che la donna quando si innamora di un uomo che poi tu dici non è quello il passo che non è il passo che devi fare per andartene e mi sta anche bene però se ne va e tante coppie poi vanno avanti magari lei sposata lui libero lei esce se ne va e costruiscono un'altra famiglia a tanti va bene ma io ho notato che ci sono uomini che si innamorano che portano avanti magari per 5 6 anni la relazione con un'altra donna ma che non sono in grado di andarsene da lì perché? beh no perché hanno un attaccamento verso questa persona ma hanno anche diciamo l'attaccamento quello che è la zona comfort quello che se mi separo dopo c'è anche un altro discorso qua che adesso qua sarebbero le tematiche molto complesse secondo me il problema di fondo in questi casi è che molte donne prendono l'ucciole per lanterne perché un uomo molti uomini sposati in realtà non è che stanno bene con la moglie o stanno male è un'abitudine però non gli frega niente di rompere quell'abitudine no assolutamente no viversi delle trasgressioni e allora loro giocano la loro partita cioè la loro partita ti raccontano la storiella che con la moglie stanno male vuoi sapere la frase vuoi sapere la frase donne quando sentite questa frase lasciatelo lì sono separato in casa posso fare ciò che voglio ma guarda caso venerdì sera sabato domenica spariscono ma se sei separato in casa e poi spari ciò che vuoi ai venerdì al sabato e alla domenica lo passi come vuoi tu giusto ma certo ma no il concetto di fondo ma la maggior adesso questa io sono una che metto il naso un po' dappertutto e voglio capire queste dinamiche allora mi sono scritta un po' l'anno scorso due anni fa mi sembra io mi scrivo magari sui vari social e dico vediamo come si approcciano gli uomini e poi alla fine ti assicuro che mi trovo i casi da aiutare perché me li attiro tutti tutti arrivano nello stesso modo con la stessa dinamica sono separato in casa non mi capisce sono lì perché ci sono i figli sempre la stessa classica dinamica sì ho capito però come dire io da un anno e mezzo che non abbiamo più rapporti poi alla fine scopre che l'hanno avuto il giorno prima cioè va bene tutto però diciamo che non hanno nemmeno un minimo di fantasia cambiate qualcosina esatto però come dire è la storia dello scorpione no lo scorpione che va sulla rana e punge la rana e manda anche la rana e la rana dice ma perché mi punto è perché quella è la mia natura quindi questa è la natura dell'uomo il problema non è tanto di quello che dicono ma è di quelle che ci credono questo è il vero problema e Mario sai io ho notato anche quello ci sono donne che in quel momento hanno bisogno perché poi sono molto bravi eh da farti il complimento come parlo con te non parlo con nessuna come vi fa stare bene tu se non sono mai se io se io dovessi scrivere io dovrei scrivere un libro su tutto quello che ho sentito ma cioè a me io mi diverto poi alla fine quando dico ma guarda io scusa ero solo qui perché devo scrivere un libro e voglio capire com'è il vostro approccio alla fine li sciolgo perché scappano tutti però cioè io ho riscontrato che l'uomo italiano sembra quasi che sia stato beh non voglio generalizzare non tutti sono così però la maggior parte sembra che sia stato fatto con lo stampino perché hanno tutte le stesse dinamiche tutte le stesse frasi e magari la donna in quel momento ha bisogno di sentirsi dire quello appunto quello quello il problema è il bisogno cioè il problema è che se tu siamo e vedi che alla fine arriviamo sempre lì sempre l'autostima perché se tu cioè come dire a capire qualcosa visto che sono cose talmente stereotipate talmente grossolane no che ridicono perché poi a capire che uno è libero o impegnato come dicevi tu se venerdì sabato e domenica quello sparisce e non si fa più sentire né vedere è perché è evidente che c'è qualcuno non ci metti a capirlo ci metti ci sono persone che fanno fatica a capirlo perché hanno sete no come dire se tu esci dal deserto e sei settata bevi pure della pozzanghera di acqua sporca non vero la sorgente di acqua pulita quindi il discorso è quello bisogna lavorare sull'autostima perché se tu hai autostima appena lo vedi che ti fa così lo mandi a stendere eppure perché questo gioca la sua partita è come una scoppione che ti punge perché quella è la sua partita gioca la sua partita perché ci sono uomini non ha neanche intenzione di lasciare la morte ma no assolutamente no assolutamente no ma ci sono anche uomini che si mettono che vogliono rimettersi in gioco perché io mi sono sentita anche quello no perché sai io mi voglio rimettere in gioco per vedere se sono ancora in grado di conquistare una donna però sulle spalle sulla pelle di un'altra persona ma loro questi sono gli otti scusami se mi permetto capisci cosa intendo perciò ci sono anche quelli che fanno questo perciò dico sempre attenzione alle frasi ai campanelli d'allarme campanelli d'allarme bandierine rosse ce ne sono tantissime oppure quando ti dicono però non non indessare il profumo non mettere il rosetto perché no perché a me piacciono le donne al naturale scusami allora mi viene andare a ridere e dico forse perché è un qualcosa che devi nascondere punto di domanda perché se tu sei sposato vai a casa e la moglie ritrova una macchia di rosetto sulla camicia o il profumo di un'altra donna e allora in quel caso metti tutti i brillantini sai quei brillantini che si appiccicano come il coso no ma lì bisogna mettere due gocce di Chanel numero 5 rimane sì ma anche i brillantini no vabbè comunque questo diciamo io credo che sia proprio legato al fatto che c'è una forte disistima oppure dall'obiettivo che tu hai poi anche l'illusione magari talvolta di trovare un uomo impegnato o un uomo libertino e di renderlo cioè se uno ha 40 anni di onorato libertinaggio alle spalle no assolutamente non possiamo essere quelle salvatrici di questi uomini se uno e la natura di quest'uomo è io dico sempre le chiamo anime mondi e anime mondi le devi lasciare andare ma certo oppure è un uomo che tradisce la moglie e poi se anche lascerà un giorno la moglie e si metterà con te ti tradirà ti tradirà anche te certo io parto sempre dal fatto di una regola che secondo me è importante ciò che togli nuovamente ti viene ritolto no no infatti infatti solitamente è così no no infatti infatti bene bene ci sarebbe da discutere altro argomento per un'altra serata per un'altra serata o questi argomenti che sono secondo me interessanti la prossima volta magari affrontiamo queste tematiche dinamiche di coppia che sono interessanti le dinamiche di coppia certo sicuramente Paola Fendoni o monimo canale canale youtube lascio un link sotto iscrivetevi lascio un link allora iscrivetevi al mio canale youtube Paola Fendoni oltre le porte del tempo acquistate il mio libro donne e uomini lo potete fare dovremmo scrivere un libro come conquistare una donna come conquistare un uomo perché comunque poi una delle prossime volte vi parlerò vi parlerò anche della narcisa manipolatrice però devo aspettare quello che esce perché è un argomento che ho trattato con corpi svuotati e di conseguenza devo prima lasciare uscire la puntata lì e vi parlerò anche di un esercizio utile da fare la prossima volta che ci vediamo perfetto ciao Paolo ciao Massimo un bacio a tutti iscrivetevi al mio canale youtube alla prossima se avete bisogno contattatevi sulla mia mail paolafendi chiocciola gmail.com arrivederci alla prossima grazie a tutti ciao 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 ciao